Dopo i momenti di grandissima tensione vissuti ieri, continua anche oggi la rimozione forzata di fioriere, gazebo e recinti realizzati dai condomini del progetto case negli spazi esterni di fronte alle loro abitazioni. Il Comune aveva deliberato lo sgombero forzato dei materiali il 30 marzo scorso, con inizio esecutivo dal 4 aprile. La beffarda tempistica ha voluto che proprio il 6 aprile, anniversario da sette anni dal terremoto del 2009, gli operai del Comune abbiano iniziato a smantellare i manufatti e le recinzioni di ogni condomino. Rabbia e perplessità da parte degli abitanti del progetto case, quei recinti non davano fastidio a nessuno, dicono. I problemi sono altri, il Comune pensasse a mettere i contatori e a fare manutenzioni, visto che pochi giorni fa è crollato un altro balcone. Non solo, se proprio era necessario rimuovere i manufatti, perché proprio il 6 aprile, giorno della ricorrenza del terremoto? I tempi, l'arroganza e la cattiveria con le quali sono state eseguite queste operazioni. Nessuno toglie che, se bisogna togliere o liberare degli spazi comuni, ok. Però così come il Comune è in grado di mandare delle raccomandate o avvertire singolarmente le persone di dover poi sgombrare dei diparti comuni, così poteva avvertire che si dovevano liberare alcuni spazi, non con un cartellino dove c'era scritto praticamente che c'erano degli spazi nei garage occupati da altre persone. Questo. Poi il 6 aprile una cosa del genere non è ammessibile. Non si capisce a chi davano fastidio e ci sono cose più urgenti da risolvere all'Aquila. Il progetto casa è questo qui, no, ma gli altri sono tutti faticenti, sono tutti da abbattere, soldi sprecati, pagati da noi. Io ho chiesto al Comune se potevo fare così e così, tipo questo, metterlo, sì, sì, lo puoi fare. Poi non l'ho fatto, perché l'ho fatto in tempo. Io ci ho autorizzato, però non mi ha fatto più una carta scritta. E poi non ho cambiato idea. E poi è rimasto così e io l'avevo incominciato a fare, ma è proprio utilizzato dal Comune. Intanto, sia come sia, al progetto case di Sant'Antonio c'è chi, impugnando trapano e martello, sta provvedendo autonomamente a smontare i manufatti, anticipando il lavoro del Comune.